Dottoressa Cristina Bassi, archeologa presso l'ufficio e beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della provincia autonoma di Trento. Dottoressa Bassi, come si inserisce lo scavo di Dos Penede nella storia archeologica del Trentino? Allora, lo scavo di Dos Penede è un luogo diciamo estremamente importante nell'ambulto della ricerca archeologica del Trentino. In primo luogo un punto fondamentale è la sua estensione, è molto raro poter scavare ed indagare dei luoghi archeologici su ampie metrature. Questo perché di norma si sovrappone la successione degli aventi della storia che oblite e nasconde e rende molto frammentare la lettura dei resti. Qui abbiamo uno stato di conservazione stupefacente, potremmo dire, abbiamo un'area estremamente estesa e l'area indagata è solo una minima parte di quella che è la sua reale potenzialità. Quindi le prospettive della ricerca sono enorme. Si pone poi in un luogo archeologicamente molto ricco di testimonianze, che è il territorio dell'Alto Garda, ma con un ruolo differente rispetto alle testimonianze note fino ad ora. Se dal punto di vista delle strutture rinvenute vi sono analogie e somiglianze con un altro luogo molto noto che è il Monte San Martino sopra i campi di Riva del Garda, qui cambia completamente la dimensione cronologica e con esso probabilmente anche la funzione di questo luogo. Su questo per il momento non si possono dare delle certezze e fare delle affermazioni sicure perché le ricerche archeologiche sono in corso e gli archeologi accompagnati dagli storici e da altre professionalità deputate all'analisi della storia antica trarranno quando avranno gli elementi sufficienti le loro considerazioni finali. Certo è che è una testimonianza straordinaria e un'autentica rivelazione. Come è strutturata la collaborazione fra soprintendenze e università e comune? Questo è un buon esempio, anzi direi un ottimo esempio di collaborazione a tre parti, diciamo, che vede ogni amministrazione con un ruolo specifico in rattura della propria vocazione. e la soprintendenza ha un ruolo di coordinamento, supervisione e organizzazione delle indagini. L'università ovviamente mette in campo le proprie competenze, la propria professionalità specifica e inoltre offre grandi opportunità agli studenti dell'Università di Trento che si ritrovano a lavorare sui luoghi, per coloro che sono ovviamente originari del Trentino, sui luoghi dove vivono essenzialmente. Il comune in questo caso è un partner veramente eccezionale perché dà un profondo e sostanziale sostegno e partecipazione a questa iniziativa che non vede solamente l'impegno economico ma anche un impegno intellettuale, direi, di partecipazione, di considerazione e di condivisione di un lavoro che vuole rendere in una prospettiva futuro, futuro a questo luogo fruibile da parte della popolazione locale ma non solo perché sappiamo è un territorio dove la vocazione turistica è importante. Quali sono le prospettive di ricerca dello scavo di Dos Penede? Allora, lo scavo di Dos Penede ha innomerevoli prospettive di ricerca, si pensi solo che per il momento ne è stata indagata solo una minima parte, ma non è solamente l'estensione del luogo ma è anche la cronologia di questo sito che vede la sovrapposizione di fasi differenti, si va dalla pre-protostoria all'età romana senza considerare poi quello che è il castello che occupa la cima del Dosso che probabilmente ha una sua ragione d'essere proprio per la vocazione insediativa di questo luogo. Le prospettive poi si aprono su molti fronti che sono quelle di comprendere perché esiste questo edificio, un edificio evidentemente voluto, fortemente voluto da qualche autorità che non è nato spontaneamente e che proprio per questo ci pone una serie di domande scientifiche a cui si spera riusciranno soprattutto gli esperti dell'università a dare delle risposte.